Una buona Turris impatta in casa contro il Venafro, visto che avete giocato una gara aperta, soprattutto ora siete giocati, avete avuto un passo diverso nel secondo tempo, grazie secondo me alla tua lettura con l'inserimento di Verderosa ha cambiato tanto lì in avanti, peccato vi dovete mangiare le mani perché dopo l'1-0 avete avuto oltre due ghiotto occasioni da gol. I ragazzi hanno lottato là dietro, in mezzo, davanti, hanno corso, hanno lottato contro una squadra forte, una squadra che sta quarta, quinta in classifica, il Venafro ha una storia dietro quindi bene, posso dire soltanto per l'ennesima volta bravi ai ragazzi e quando vedi dei ragazzi che crescono, che lottano, non mi stufro mai di dirlo, qualcuno ha fatto la promozione, qualcuno la prima categoria, invece stanno sul pezzo, vanno, rincorrono, la mettono, abbiamo avuto un sacco di occasioni, ce la siamo giocati e io mi sono divertito, veramente esco col sorriso, mi sono divertito, è stato bello, sembrava veramente una partita di eccellenza, tanta 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 roba, bravi questi ragazzi. Se ne avevi nel cassetto la mossa Verderosa, l'ha inserito, ti ha cambiato la partita immediatamente, come è entrato in campo? Beh, ho visto un pochettino che stavamo là e là, mettere poi un attaccante in più, mettere un po' di peso là davanti, peccato per quella mezza riga che non l'ha buttata dentro a cinque minuti dalla fine, però sì, ha dato un contributo, anche lo stesso Budano a sinistra ha dato il suo contributo, noi spingiamo sugli esterni, quindi cerchiamo sempre il due contro uno, quindi sono arrivati tanti palloni in mezzo, bisognava essere bravi a buttarla dentro, anche nel primo tempo abbiamo messo un sacco di palloni, però non riuscivamo mai a chiudere l'azione, invece con lui l'abbiamo chiusa, lo stiamo aspettando, lui si è messo in riga, è arrivato un pochettino con noi, un po' di ritardo di preparazione, però adesso si sta inserendo bene nel gruppo, sono contento, ma ripeto, sono contento veramente di tutti quanti. Adesso ci riposiamo un pochettino, ci sta un pochettino di sosta, ripartiamo, veramente bene, 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 bene. Quando vedi dei ragazzi a lottare così su ogni pallone, vedi l'energia che ti trasmettono, veramente sono felice.